Con l'evoluzione epidemiologica e demografica della popolazione, è sempre più difficile trasportare la sanità dall'ospedale al territorio. Ci sono però dei nuovi modelli di organizzazione delle cure e di presa in carico del paziente che possono venirci incontro. Solamente se abbiamo una presa in carico efficiente ed efficace del paziente sul territorio.